Poracci, bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di internet.poro dove si parla di videogiochi a una frequenza non regolare. Torna il format preferito da grandi e piccini per una puntata dove farò un po' il punto della situazione, trattando alcune notizie che non sono riusciti a discutere negli ultimi TG Poro di questa settimana e anche sarà un'occasione per discutere di alcuni progetti futuri che ho in mente, di cui magari vi ho già accennato in qualche situazione, ma mi piacerebbe appunto fare un po' il punto della situazione di quello che produrrò nei prossimi giorni, settimane, qua sul canale. Non c'è tempo da perdere e niente, vi invito come al solito a supportarmi, sopportarmi, ma soprattutto datemi dei sordi, importantissimo, e un grazie gigantesco ad oggi a RetroGames per sponsorizzare anche questo Porocast. Io ho detto tutto, inizia! Allora, partirei subito dalla prima notizione, la più importante in assoluto, che riguarda Nintendo Switch, ma non Nintendo Switch 2, non un eventuale Direct di aprile-maggio-giugno, ma bensì l'aggiornamento del Nintendo Switch Online. Perché? Mentre abbiamo, diciamo, una line-up per il 2024 ancora un po' scricchiolante, dove manca quel titolo di richiamo universale che possa attirare tutta quanta l'attenzione su di sé, Nintendo comunque non si sta mai ferma e pubblica un aggiornamento per il catalogo Super Nintendo su NSO. Quindi è un aggiornamento disponibile per tutti quanti gli utenti, anche quelli che hanno il tier base. E lo so che il primo impulso è quello di dire, vabbè, l'aggiornamento è una schifezza perché si tratta di titoli minori, non ne sentiamo assolutamente il bisogno, sì, ma anche no, perché in realtà si tratta di un aggiornamento molto particolare che secondo me consolida un trend che ha senso e che soprattutto è interessante da vedere su una console Nintendo, perché si tratta sostanzialmente di tre titoli, sia abbastanza sconosciuti, ma due perché... poi sconosciuti perché siete ignoranti, comunque... ma due perché non sono mai usciti dal territorio giapponese. Mi riferisco a Wrecking Crew 98, seguito del primo Wrecking Crew per NES, e anche un titolo giapponese al titolo impronunciabile, che ora leggerò qua, ed è Amazing e Bereke. Ed è figo, secondo me, questa cosa che Nintendo sfrutta gli aggiornamenti dell'NSO in questi tempi un po' morti per dare spazio a dei titoli che non sono mai arrivati prima d'ora da noi in occidente e che quindi, insomma, può avere anche un certo valore storico, un aggiornamento del genere. Tra l'altro, leggendo quella in giro, perché proprio non li conosceva questi titoli, nonostante Wrecking Crew sia un nome abbastanza famoso all'interno della line-up NES, non sapevo assolutamente se stesse il seguito chiamato 98, che uscì su Super Nintendo e tra l'altro, anzi Super Famicom, e tra l'altro è una sorta di Tetris competitivo, un po' alla panel de Pond. Ne parlano molto bene, ho visto un po' le immagini di gameplay, è super colorato, sembra bello dinamico, frenetico, eccetera, eccetera, come tutti, insomma, i puzzle game dell'epoca. Ebereke è un titolo minore, sembra abbastanza divertente, anche una sorta di multiplayer fighting game molto scansonato, non aspettatevi un Mortal Kombat, ma più un Power Stone in 2D, almeno questo sembra delle immagini. Tra l'altro credo che la release originale supportasse il multitap, quindi fino a 4 giocatori, ma questa in realtà penso sia limitata su 82. Magari una prova la si dà, perché no? E poi abbiamo Super R-Type, che sarebbe il primo R-Type arrivato su Super Nintendo, questo fu pubblicato sia in Nord America che in Europa, non l'ho mai giocato, sebbene conosca abbastanza bene la serie di R-Type, e quindi mi sono andato un po' a informare su che capitolo fosse all'interno della serie, e ho scoperto dietro c'è una storia fighissima, che ve la cito un attimo leggendo qua l'articolo su Wikipedia. È un port parziale del secondo R-Type, infatti riporta 4 livelli da R-Type 2 e ne aggiunge 3 totalmente nuovi, quindi è una sorta di porting a metà, è un po' un remake di R-Type 2. Il gioco è famoso per la sua difficoltà molto elevata, anche se messo a comparazione con gli altri giochi della serie, in particolare perché non ha dei checkpoint interni, e quindi morire significa ricominciare il livello dall'inizio, e questo vabbè è di sicuro un problema che con il quick save, i save state, si può proprio ovviare a questo problema. Però, aggiungono, questo gioco soffre di rallentamenti, però a differenza degli altri, aggiungono, Super Type rallenta così tanto da diventare praticamente delle immagini ferme. Soprattutto quando ci sono tante cose su schermo. Però questo, in realtà, era utile ai giocatori, perché bloccandosi tutto il gioco avevano tempo di pianificare gli spostamenti, e quindi magari riuscivano, proprio perché il gioco si bloccava, a superare i punti più ostaci. C'è una sorta di slow motion, bullet time, prima che Max Payne introducesse questa feature. E sono, probabilmente sì, siccome si tratta di emulazione, si blocca il gioco anche su NSO, chissà. Però, ecco, per esempio, la storia dietro Super R-Type non la sapevo minimamente. Ma la cosa poi ancora più interessante è che, come al solito, abbiamo un aggiornamento diverso tra quello che è l'NSO occidentale e quello che è l'NSO giapponese. E i nostri cari cugini giapponesi ricevono addirittura quattro titoli al posto di tre. Due sono in comune, sono R-Type e Wrecking Crew 98. Al posto di Ebbe Reke viene aggiunto un Battle Toads, che da noi però era già stato aggiunto in precedenza. E poi c'è la vera chicca, perché come quarto titolo c'è Marvelous Moitotsu no Takarajima, ovvero Marvelous Another Treasure Island. E si tratta, questo, pensate, del debutto da director di Eiji Aonuma, ed è un gioco che si ispira pesantemente a The Legend of Zelda, tanto che, pensate, utilizza addirittura lo stesso motore di A Link to the Past. Il gioco purtroppo non è mai uscito dal Giappone, quindi non esistono localizzazioni ufficiali, ma da quanto ho capito ci sono delle patch amatoriali, un titolo che mi ha sempre affascinato e sarebbe bello magari un giorno farci un mini documentario sopra, perché c'è del grandissimo potenziale. Tra l'altro leggevo di un utente che diceva che questo gioco è considerato anche un po' come l'ispirazione per Triforce Heroes, che ha un po' il suo seguito spirituale. Non so in che modo, forse proprio perché ci sono più personaggi a schermo che devono collaborare l'uno con l'altro per risolvere i puzzle game. Comunque, l'opinione comune è che si tratti di un ottimo action-adventure, anzi, un ottimo adventure, che palesemente si ispira a Link to the Past, però poi c'è tutta un altro tipo di estetica, tutta un altro tipo anche di narrativa. Peccato non sapere il giapponese, però questa qua è un'aggiunta molto interessante e non lo so, capisco che ci si aspetta altro a Nintendo in questo periodo, però non sottovaluterei questo tipo di approccio un po' storico, un po' per riscoprire l'iden gem. Insomma, questo valore aggiunto che può dare l'NSO se approcciato in questo modo. Certo, è che magari andrebbero rimpolpati anche, soprattutto con regolarità, i cataloghi, quelli più costosi. In particolare quello del Nintendo 64, secondo me, ha ancora tanto da dire, però, insomma, staremo a vedere anche il Gamepad Advance, non dimentichiamoci. Andando avanti, mi sono preparato un po' di schede, abbiamo... Ah sì, questa è una notizia al volo. Probabilmente non c'era vado in live, però abbiamo eseguito la Triple I Initiative, ovvero il gran galà dei giochi indie e, come avevamo discusso in più e più T.G. Poro, alla fine è stato annunciato un nuovo Prince of Persia, chiamato The Rogue, sviluppato da Evil Empire, che sono gli stessi di Dead Cells. Ed effettivamente il gioco è un roguelike identico in tutto e per tutto a Dead Cells, se non fosse che è graziato da uno stile grafico molto particolare, che secondo me ha fatto storcere il naso a molti. Io l'apprezzo tanto. Prima che venisse annunciato ufficialmente, il leak diceva che il titolo graficamente si ispirava ai fumetti francesi, e ho visto molti inglesi tirare fuori come reference Asterix e Obelix. Ovviamente non c'entra assolutamente niente, però non sono un esperto di fumetto europeo, però effettivamente poi guardando la resa finale non so bene a cosa, ma a qualcosa di francese mi fa pensare. Magari voi avete più chiaro qualche riferimento specifico. Certo, la pelle viola è un po' strana, però alla fine ci si fa subito l'abitudine. Devo dire che io non sono un amante dei roguelike alla Dead Cells, però da quel poco che si è visto di gameplay il sistema di movimento è super fluido ed è soprattutto quello che mi aspetto da un Prince of Persia. Quindi se sono riusciti bene a ibridare, madonna quanto mi piace sta parola, l'estetica e proprio il gameplay di un Prince of Persia, quelle che sono le meccaniche di progressione di un roguelike, io una prova gliela do molto volentieri, e appunto mi segnalo che il gioco andrà in Early Access su Steam, anzi Early Access, Access, Arches, su Steam il 14 maggio, però adesso ci si può mettere in lista per partecipare a un'alpha che penso verrà aperta a giorni. Io per non saper né leggere né scrivere, non ho fatto neanche gli elementari, comunque l'application l'ho mandata e vi saprò dire se sarò un alfa tester per The Rogue, Prince of Persia, sono molto curioso. Probabilmente però per ora uscirà soltanto su Steam, quindi l'alpha sarà per PC, valutate anche questo. Poi volevo parlare anche della demo di Stellar Blade, non tanto perché me ne frega qualcosa di tutto il casino che è stato fatto sulla sessualizzazione del personaggio che è troppo hot e via dicendo, sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, ma questo non significa che poi glielo trovi interessante. Per esempio una delle cose più fastidiose che ho trovato sempre di Baionetta è l'eccessiva. Sono gli eccessivi innuendo sessuali della protagonista e in generale un po' tutta quanta l'estetica, però secondo me il punto è questo, si possono sessualizzare tanto i personaggi, ma dipende anche come lo viene fatto e qual è il fine ultimo. Per esempio in un titolo come Baionetta c'è dietro tutta una cifra espressiva che è molto parodistica, che è molto eccessiva, che punta allo scandalizzare tramite il ridicolo e quindi tutto quel tipo di sessualizzazione può essere contestualizzato e può avere senso. Poi ti può piacere o ti può non piacere. Stellar Blade ancora non l'ho provato, quindi non vi so dire, però insomma mi sembra veramente una... che sia stato un polverone immotivato, anche perché di esempi del genere nel mondo dei videogiochi ce ne sono proprio a miliardi. Questo non significa che magari in futuro non si possa cambiare direzione, però ecco, ogni cosa andrebbe contestualizzata di volta in volta. La cosa che però mi interessa veramente di Stellar Blade è che sta avendo un successo incredibile e stiamo parlando soltanto della demo e vi riporto un po' i dati che sono stati poi messi in ordine su Video Game Chronicles e anzi Video Games Chronicles dove presente viene detto che la demo è così popolare che ha attratto un massimo di 690.000 giocatori attivi al giorno. In comparazione, la demo per l'altra esclusiva PlayStation 5, Final Fantasy VII Rebirth è arrivata fino a 380.000 utenti attivi al giorno. Questo significa che probabilmente Stellar Blade vuoi un po' perché c'è stato tutto il appunto questo casino dello scandalo sul personaggio Eve vuoi un po' perché si tratta di una nuova EP quindi c'è anche molta curiosità vuoi un po' perché comunque in questo periodo non è che sta uscendo chissà cosa potrebbe vendere tranquillamente più di Final Fantasy VII Rebirth che ricordiamo internamente è stato visto da Square Enix anche un po' come non un fallimento ma qualcosa che non ha rispettato i target interni e soprattutto appena è uscito il gioco nei primi giorni ha registrato un picco di 2,2 milioni di utenti attivi sicuramente secondo me Stellar Blade riuscirà a fare di più però è anche interessante vedere che tutta questa cosa della sessualizzazione non è stato un fuoco di paglia perché comunque i giocatori continuano a giocare al titolo e c'è chi ha raggiunto addirittura 50 ore di gameplay di giocato su una demo che ne dura una scarsa quindi non lo so si era rifatto almeno una quarantina di volte il walkthrough del il playthrough di tutta quanta la demo che sembra una cosa un po' assurda tanto che gli stessi sviluppatori hanno commentato così con un post dove scrivono siamo molto gradi per l'amore che dimostrate nei confronti al nostro gioco i moji del cuoricino fondamentale però insomma per godere del gioco completo a modino per favore andateci piano con la demo 50 e più ore di gameplay sulla demo abbiamo paura fate paura quindi insomma se lo dicono anche gli sviluppatori che state forse un po' esagerando però insomma sono sono molto incuriosito da questo titolo che stavo abbastanza snobbando anche perché sono ancora incastrato su Final Fantasy VII Rebirth ma ora ne parliamo al volo e devo dire che insomma come tipo di gameplay potrebbe piacermi tranquillamente non mi fa impazzire il monster design però insomma a questo punto una chance gliela voglio dare tra l'altro ora che pensavo alla sessualizzazione dei personaggi quanto è fastidioso la sessualizzazione di presente in era automata là pure è al limite dello scala è poi totalmente decontestualizzata è totalmente fanservice allo stato puro eppure viene visto come uno dei capolavori contemporanei insomma dell'ultimo decennio e cosa volevo dire eh sì insomma sono curioso di vedere come andrà come esclusiva sono curioso di scoprire il gameplay anzi fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha giocato che ne pensate però vorrei un attimo dirottare la discussione su Final Fantasy VII Rebirth che secondo me ha venduto poco ma semplicemente perché si tratta di un capitolo 2 di un remake quindi cioè metti delle barriere di accesso impressionanti penso tra l'altro è un capitolo 2 di un titolo che è uscito 4-5 anni fa quindi di sicuro avrebbe venduto meno del primo titolo perché magari tutti quelli che l'hanno provato non lo so l'80% sarà rimasto soddisfatto quindi chi viene dopo sapendo che deve aver giocato al primo se già al primo non gli è piaciuto probabilmente non giocherà neanche al secondo è difficile che qualcuno entri adesso e poi ti ritrovi un titolo che ha bisogno di conoscere parte la storia originale perché se no non te lo godi vabbè ma questo purtroppo forse è il più grande problema di tutta quanta la produzione e poi ha anche bisogno di sapere quello che è successo nel capitolo prima trattandosi di un seguito diretto quindi c'è poco da fare è un titolo che richiede tantissimo al giocatore non solo a livello di impegno proprio col gioco ma anche di informazioni pregresse quindi ci sta che uno Stellar Blade attiri molto più pubblico che comunque cerca qualcosa da giocare su PlayStation 5 quello che volevo dire di Final Fantasy VII è Rebirth io ormai sono arrivato intorno alle 80 ore di gioco temo che ce ne impiegherò circa un centinaio per finire il titolo non mi esprimo ancora nel dare un giudizio su quella che è l'esperienza complessiva anche perché poi è chiaro che è la narrativa a fare da padrona un titolo del genere e per ora non mi sbilancio anche perché in remake potevo se il mio giudizio si fosse fermato a tutti i capitoli tranne l'ultimo avrei detto questo è il capolavoro della vita poi c'è l'ultimo capitolo e cambia tutto cambia tutto perché là veniva ricontestualizzata tutta l'operazione del remake che non era più un remake ma diventava appunto un Rebirth ora con Rebirth è chiaro che il colpo di scena finale se lo tengono alla fine sono curioso di capire dove andranno a parare con tutti gli elementi che stanno inserendo piano piano all'interno della narrativa che comunque rimane familiare già sento buzza di vabbè non dico niente però però se non altro i personaggi sono tutti trattati con estremo rispetto tutte le micro narrative non solo riprendono in modo convincente quello che c'era in Final Fantasy VII su PlayStation 1 ma in più aggiungono anche tanto regia per me pazzesca grafica boh imprese lasciate perdere poi i tecnicismi no ma quando sta a 60 fps l'immagine è tutta sfocata non è definita ho giocato Xeno 2 in portabilità ma a me che me frega se fa Final Fantasy VII Rebirth scende sub 4k non è un mio problema quindi per me regia fantastica gameplay pazzesco bellissimo micro narrative bellissime sospendo il giudizio sulla narrativa incrociando le dita che non abbiano sminchiato sul finale quello che vi devo dire però insomma apprezzo tantissimo l'open world apprezzo tantissimo il richiamo al completismo che mi ha che mi ha colpito tanto che sto facendo in modo di fare tutto quanto però in un gioco così gigantesco mastodontico totale che chiede proprio ad essere completato al 100% hanno fatto penso la scelta peggiore di tutte e per questo li odierò sempre per sempre proprio hanno creato un gioco che per essere completato veramente al 100% per essere platinato ti devi mettere a fare dei minigiochi che sono di una difficoltà pazzesca e non solo li devi fare ma li devi essere in care cioè devi prendere la valutazione massima possibile e io dico questo già mi sono lamentato in live ma voglio sfruttare anche questa questa occasione per farlo nuovamente io dico ma ma porca miseria va benissimo che i minigiochi abbiano un ruolo fondamentale all'interno della struttura del gameplay perché anche in Final Fantasy VII era così ed erano dei momenti proprio necessari per alleggerire una storia e un'atmosfera pesantissima e quindi il Gold Saucer aveva quella funzione di distensione che ti faceva un attimo anche respirare perché è un gioco molto impegnativo non solo a livello proprio tecnico di gameplay ma di impegno emotivo impegno di tempo e quindi a un certo punto il cazzeggio ci sta e poi è anche questa l'anima di Final Fantasy VII un titolo estremamente serio ma poi con un cast molto variegato con dei momenti sopra le righe tanta allegria in un contesto che a volte è disperato e quindi ci sta che ci sia così tanto voler giocare ricordarti che si tratta di un gioco va benissimo ma non può essere che io per dimostrare l'abilità al gioco debba mettere sullo stesso piano un cazzo di minigioco dove devo fare dei piegamenti che è impossibile oppure un cazzo di minigioco dove mi devo buttare col ciocobo e fare e planare cioè ci sono ma che poi detti così sembrano pure delle cose stupidissime ma li hanno fatti difficilissimi difficilissimi cioè il minigioco del pianoforte che è fatto pure bene è pure una cosa carina poi quando stai diciamo non eseguendo un brano ma stai nella modalità free c'è anche tanta possibilità di espressione mi ricorda un po' il minigioco della chitarra della Stovas parte 2 e sono sicuro che se ne possono tirare fuori delle figate si possono cambiare ottave si può cambiare tempo si possono fare 10.000 cose ma quando devi eseguire brani e per finire il gioco veramente devi prendere la valutazione S su tutti quanti i brani sti matti perché sono matti hanno fatto che la valutazione S te la prendi soltanto quando non sbagli neanche una nota e si tratta di un di un minigioco che è una sorta di guitarero però applicato alle due alle due levette dove l'aletta sinistra vai a prendere gli accordi del pianoforte sarebbe la mano sinistra mentre a destra fai la la melodia ragazzi è impossibile è impossibile cioè io non so come che cazzo gli sia venuto in mente è impossibile e dovresti traiardare così tanto dovresti è un gioco nel gioco ma che diventa di una difficoltà dovresti essere un campione del rhythm game ma se io volevo un rhythm game mandavo a giocare te la dare rhythm mandavo a giocare a guitarero non mandavo a giocare a Final Fantasy 7 e a Rebirth e quindi questa cosa per il mio cervello che vuole tutto completo al 100% è veramente una cosa senza senso sono tutti difficilissimi e poi per motivi diversi c'è il minigioco stile rhythm game c'è quell'altro che è una sorta di memory c'è quell'altro invece che è uno strategico c'è quell'altro che è un gestionale non è possibile non è possibile è veramente foglia pura e stavo anche pensando di fare un new game plus e rifarmelo a difficoltà massima arrivato al capitolo 11 12 dove sono arrivato penso che mi accontenterò per adesso della prima run e questo è un vero peccato mi dispiace però non riesco ad andare oltre fatemi sapere se qualcuno di voi si è incastrato allo stesso modo se qualcuno di voi è riuscito invece a superare queste difficoltà se a qualcuno di voi invece non gliene frega niente o magari se a qualcuno di voi è capitata un'esperienza del genere non necessariamente con Final Fantasy 7 e Rebirth tolte queste notizie questo mio rant come dicono anzi il rant mi sai l'affitto rant questa mia lamentela come dicono gli americani è giunto il momento di parlarvi di due progetti in futuri che anche questi vi ho già accennato in live ma ve li ripeto anche qua perché magari questo video riuscirà a arrivare a un po' più di persone allora ci sono due progetti sostanzialmente il primo è il secondo video della serie gli anni dei videogiochi c'è stato il video d'esordio che è andato molto bene che è quello sul 1996 i videogiochi erano meglio prima dove passavo in rassegna l'anno 1996 però dal punto di vista delle uscite videoludiche e in generale di tutto quello che era successo all'interno dell'industria del videogioco e adesso prenderemo in esame il prossimo anno non sarà il 1997 ma il 1998 perché è un altro anno fondamentale dove è uscito veramente il mondo non solo Ocarina of Time ma anzi dico Ocarina of Time già questo basterebbe per renderlo uno dei migliori anni di sempre e probabilmente è così ma ci sono tantissime cose che sono accadute e siccome è un tipo di video che mi richiede una lavorazione lunghissima ma proprio almeno 5-6 volte tanto rispetto a un mio video approfondimento ho pensato di fare questa cosa faremo questo esperimento farò una live su Twitch per non sporcare il canale YouTube dove sarà un Just Chatting dove vi accompagnerò anzi mi accompagnerete nello studio per fare il copione del video ovvero vi mostrerò come faccio ricerca quando devo approcciare questi mini documentari parto da Wikipedia o Wikipedia come preferite e poi da là mi muovo cercando informazioni mettendo varie note insomma segnandomi le cose importanti quelle meno e inizio così anche a creare un po' l'ossatura del copione del video non lo so secondo me può essere una cosa interessante più che altro mi potete fare compagnia in questo viaggio dove perderò 10 anni di vita e soprattutto vorrebbe essere un modo per mettermi un po' di urgenza nel creare un video del genere perché il grande problema del primo episodio è che io sapevo sarebbe trattato di un video molto figo ma dopo averlo scritto e dopo averlo registrato ho avuto tanta paura di montarlo e quindi ho perso tempo mettevo sempre altre cose in produzione quindi ci giravo attorno magari adesso dandomi le scadenze le cose andranno andranno meglio quindi non lo so cercherò di avvertirvi con un po' di anticipo sarà comunque una live pomeridiana tendente al serale magari in un giorno in cui pubblico uno short e non devo quindi coprire anche con un video se no diventerebbe un'ammazzata clamorosa e niente spero di di vedervi in live e l'altro progetto invece riguarda Instagram ed è un progetto a tema collezionistico e l'ho chiamato PlayStation 1 nostalgia full set perché se avete visto le ultime interviste che ho fatto dedicate al Nintendo 64 e al NES dove ho portato due grandissimi collezionisti Paolo e Druega che sono riusciti nell'impresa difficilissima di chiudere il full set Paolo del Nintendo 64 Druega del NES c'è una cosa che proprio mi ha appassionato tantissimo è che alla fine i collezionisti top quelli veri quelli che stanno appresso a questa ossessione da decenni e non si sono smegliati post pandemia beh conservano sempre una dimensione molto personale del collezionismo e sono soprattutto giocatori gente che ha comprato quei giochi ma così come era anche Dario per il Gamecube ha vissuto quella console ha continuato a amarla e più andava avanti più comprava per giocare non comprava perché il titolo era raro magari queste cose poi sono arrivate proprio nel momento di chiudere il full set ma la base c'è sempre stato l'interesse per giocare e riscoprire o rivivere determinate emozioni ecco allora ho pensato io lo stesso tipo di storia ce l'ho avuto con la Playstation 1 una console su cui ho parlato ho passato non so se definirla tutta l'infanzia però comunque di sicuro tutte le elementari gran parte delle elementari fino a parte delle medie penso di aver avuto in totale due giochi originali nonostante abbia provato centinaia e centinaia di titoli con i miei amici allora il nostalgia full set è proprio questo mi sono fatto un elenco un listone dei titoli che mi piacerebbe anzi dei titoli che io e i miei amici abbiamo giocato che ce li ricordiamo benissimo o che magari leggevamo le cose sulle riviste sapevamo che deve uscire ma poi magari non abbiamo giocato subito oppure abbiamo dato priorità ad altro eccetera eccetera beh io voglio recuperare quei giochi il fine ultimo sarà quello poi se riesco a completare il set di invitare una sera a casa i miei amici dell'epoca che ancora sento per fare una sorta rimpatriata Playstation 1 e riprendere questi titoli ma la cosa figa è che adesso che ho stilato la lista ci sono sì quei titoli imprescindibili della console quindi ci sta il Metal Gear ci sta Resident Evil ci sta Final Fantasy 7 per carità però il 90% della roba sono tutti titoli o dimenticati o proprio minori oppure monnezze su cui però per un motivo o per l'altro ci abbiamo passato sopra penso le migliori ore i migliori pomeriggi di quegli anni e quindi adesso per esempio ho preso Reboot ho preso Circuit Breakers ho preso il primo croc mamma mia ed è un continuo sto passando le foto su un gruppo whatsapp ed è un continuo riaffiorare di ricordi perché al di là della qualità dei titoli dietro ci stanno quintalate quintalate di emozioni di amicizia di ricordi di sentimenti insomma cioè veramente sono un pezzo di vita che però avendoci avuto sempre tarocco non ho non ho mai posseduto e non lo so per rivivere un po' quel periodo per ricordare quel periodo rivivere un po' utopistico per ricordare quel periodo voglio tappare finalmente questi buchi e e vedere cosa ne esce fuori e dicevo che è un progetto legato a Instagram perché vorrei manomare manomare vabbè devo devo smettere sono stanchissimo ve dico quest'ultima cosa e poi ci salutiamo voglio mano mano aggiornarvi su tutti i titoli che arrivano ma vi ripeto molto spesso si tratta di titoli da 5-10 euro proprio schifezze ma proprio per questo voglio trovare il modo per introdurveli nel miglior modo possibile quindi io molto spesso vedo che ci sono i collezionisti che semplicemente postano la foto del l'ho fatto anch'io molto spesso di un gioco preso la loro collezione se va bene ci aggiungono qualche informazione nella caption una quintalata di hashtag che non servono a niente e poi more là ecco mi piacerebbe avere un modo un po' più personale interattivo dello spiegare il perché secondo me una monnezza del genere o che un titolo così sconosciuto merita di essere riscoperto oppure perché non merita di essere riscoperto ma perché comunque me lo porterò sempre dentro di me quindi pensavo magari di fare una sorta di rassegna tramite le storie di instagram dove vi parlerò un po' così a ruota libera del gioco magari se ci riesco vi farò vedere anche dei dettagli del manuale magari del gameplay eccetera eccetera e creerò poi un raccoglitore di queste storie che chiamerò appunto playstation 1 nostalgia full set e niente l'intento sarà quello di ricostruire questa mappa di ricordi ma poi spiegare anche quali sono questi ricordi che ci sono dietro e non lo so io la trovo un'idea magari è molto personale quindi non so quanto può interessare alle altre insomma a voi spettatori a voi che mi guardate però sono anche convinto che ci sono dei titoli che magari molti hanno sepolto nei meandri dei ricordi e quindi potrebbero riaffiorare dei feels potentissimi e quindi insomma questa non lo so sarebbe un bel traguardo riuscire a riscoprire quell'infanzia e magari scoprire che poi in tanti abbiamo condiviso quei giochi tarocchi perché sostanzialmente poi è quello detto questo poracci io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine ho fatto anche la cosa non andrebbe mai fatta cioè a registrare con la luce naturale infatti adesso è diventata notte e in più è sempre tutto più storto perfetto come dicevo rispondendo a un commento è tutto sfogato è tutto storto infatti è una cifra stilistica altrimenti non sarebbe un canale pieno dei poracciate no in realtà sto cercando di migliorare un po' le cose però per ora anzi comunque il salto qualitatico c'è stato purtroppo è che ogni salto che faccio poi l'atterraggio è sempre disastroso però insomma continuate a seguirmi piano 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 e arriveremo arriveremo a grandi risultati vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine vi auguro un buon weekend sul serio grazie mille per il supporto lo sapete soprattutto a chi si abbona su youtube chi si abbona può sia su youtube o su patreon può entrare nel gruppo discord sì dove ci sono parlo rispondo si sta formando anche una bella community a tema retro gaming dove postiamo i nostri acquisti eccetera eccetera e dove ogni tanto poi vi spoilerò anche gli arrivi e ora inizierò insomma a farvi vedere anche quello che c'è già adesso per il nostalgia full set quindi grazie a tutti quanti quelli che decidono di supportare economicamente questo mio progetto questi miei sforzi su youtube e non solo grazie veramente di cuore non vi ringrazierò mai abbastanza a tutti gli altri che mettono like comunque o condividono o commentano o semplicemente guardano il video comunque la mia massima stima e gratitudine e a tutti gli altri invece vabbè dov'anno a così dov'anno a così fratelli io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo non mi resta di darvi appuntamento al prossimo porocast che arriverà quando arriverà voi nel frattempo mi raccomando fate altro non aspettate trattenendo il fiato perché sennò rischiate veramente che finisca male ma soprattutto riposatevi dormendo sogni tranquilli ma nerdate duro io sono il poro nostalgia michael funset ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa a Grazie a tutti